Quanto costa il TCG di One Piece per chi deve iniziare? La barriera rappresentata dai prezzi alti danneggerà il gioco? E come si potrà ovviare a tale dilemma? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Il gioco di carte collezionabili di One Piece ha registrato nel 2023 cifre da record, pubblicando numerosi articoli che sono terminate ancora prima di toccare un qualsivoglia bancone presente in fumetteria, portando il TCG basato sull'opera del maestro Oda a livelli da grande titolo. Ma purtroppo c'è un ma. Quando si parla di gioco di carte si parla anche di deck building, con tutto ciò che richiederà questa pratica, quindi comprare uno o più starter, scambiare o acquistare quel che resta per completare la lista che ci si è prefissati di giocare, e così via. Ebbene, per chi vuole iniziare la sua avventura salpando verso la rotta maggiore, un ostacolo rappresenterà un vincolo piuttosto ostico da dover superare, ovvero il prezzo delle singole carte che, per ogni colore, saranno fondamentali per far girare il proprio deck nel migliore dei modi. Quindi in questo video esploreremo il delicato tema delle barriere di accesso discretamente alte che vedono singoli elementi presenti in questo TCG essere al centro di diverse discussioni, che vedono alcuni aspiranti re dei pirati abbandonare dal principio l'idea di spiegare le vele prendendo in largo, ed altri essere resti nel voler continuare la loro avventura, causa costi elevati da far demordere anche il più temibile dei corsari. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite e molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quanto costa giocare al TCG di One Piece e quali potranno essere le manovre giuste per far sì che questo gioco non risulti troppo oneroso da poter approcciare. Andiamo a dargli un'occhiata. Quanto mi costa? Inutile girarci attorno. Giocare al TCG di One Piece costa. Ci sono carte che oramai hanno raggiunto quote davvero importanti. Vedasi Borsalino costo 4 che, mentre sto registrando questo video, si aggira attorno ai 30 euro di media. Katakuri Secret sui 60 e Queen dello Starter sulla ventina Fonte Car Market. E la cosa bella è che di solito questo trist viene giocato in 3 o 4 per, aumentando esponenzialmente il costo di montaggio di un deck, che vede anche altre carte importanti farne parte. Vedasi Sakazuki leader dell'odierno OP05, il quale costo non cessa di salire giorno dopo giorno. E Arconte, ma come si fa allora? Non mi va di spendere tutti questi soldi per iniziare un gioco che non sono neanche sicuro mi piacerà. Giusto. E se prima c'erano le opzioni rappresentate da Belobetti e Rebecca, ora solo quest'ultima è rimasta ad accontentare i nuovi marinai, dato che la rivoluzionaria solo di Sanjay e Cracker vedrà un esborso minimo di 80 euro per recuperare questi ultimi in 4 copie ciascuno, che comunque, relazionati ai 240 euro di solo Katakuri nel mazzo di Enel, non rappresenteranno poi una spesa così elevata. Mentre per la bellezza di Dressrosa ve la caverete con circa 100 euro per l'intero deck, calcolando che i soli sabbo giocati in quartetto si troveranno a circa 15 euro l'uno e le controparti blocker del leader attorno agli 8 euro per singola carta. Ma nonostante ciò, c'è uno spiraglio di speranza. Perché? Stanno arrivando le prime ristampe delle carte più iconiche del gioco, vedasi già pubblicati Zoro Rush, che al momento si trovano al di sotto della soglia di 2 euro, e le Nami Sercino, che se prima stavano a poco, ora stanno a meno. Sia Arconte, peccato che lo starter 10 sia finito ovunque, e quando lo si trova il suo costo è proibitivo. Un secondo. Dopo i primi arrivi, il decimo ha subito un ribasso e potrete trovarlo a meno di 50 euro. Ma se questa cifra dovesse ancora essere troppo alta, calcolate che dovrete comunque averne due per ottenere tutti i playset pronti per essere utilizzati, mettetevi comodi, perché vi rivelerò un segreto che accomuna ogni TCG dall'alba della venuta di internet e degli scambi tramite mercato secondario. Vi mancano delle carte? Compratele singolarmente. In questo modo aggirerete la barriera di accesso rappresentato dal costo elevato, visto che se presi dai siti di riferimento più importanti, la cifra da dover spendere di certo sarà di molto inferiore rispetto all'intero articolo. Sto parlando di alcuni colori, naturalmente, per altri invece, come disse un vecchio saggio, struscia la carta dello zio Peppe. In più calcolate che l'undicesimo capitolo degli starter, che vedrà Uta come protagonista in tinta verde, riproporrà l'intero compartimento di film, Nami esclusa, apparsi per la prima volta nel secondo set Paramount War, con altri supporti interessanti che faranno della cantante una bella gatta da pelare. Quindi, se volete, dategli uno sguardo, perché sono certo che potrete trovare nella figlia di Shanks una valida soluzione per poter iniziare a navigare nello sconfinato oceano alla ricerca dello One Piece. Ovviamente però non è abbastanza, o almeno al momento. Ci sono ancora molti leader che, se non costruiti con uno specifico pool di carte, non vedranno mai la cima della graduatoria dei tornei che vi vedranno protagonisti. Non disperate comunque, perché l'esperienza parla chiaro ed è sotto gli occhi di tutti. Nei diversi DCG più affermati, infatti, c'è sempre stato un reprint delle carte più utilizzate nel meta in corso o passato, soprattutto a ridosso della rotazione del formato, cosa che, però, in One Piece, come per Yugi, non è presente. Quindi aspettiamo che la Bandai faccia il suo corso e auguriamoci che si abbassino le barriere di accesso, dando la possibilità a quanti più aspiranti re dei pirati di prendere in largo. Arconte, attualmente la situazione come la vedi? Per me che ho iniziato a giocare dal super pre-release, stabile. Ho messo da parte con gli anni tutti i playset che servivano per meta attuali e futuri e ciò mi è tornato a favore. Calcolate che, per montare Sagazuki, ci avrò speso, forse sì e no, una trentina di euro. Mentre per chi inizia, non bene. O per meglio dire, non bene se vorrete montare Sagazuki, Enel o Lufio o Katakuri da zero. Ma questa sarà una scelta vostra e, come già accennato, ci saranno delle soluzioni più economiche che potranno dire la loro in un torneo organizzato. Quindi, non demoralizzatevi. Ma fino a quel momento comunque la faccenda rimarrà immutata. Ci saranno sempre deck più e altri meno costosi che seguiranno una specifica linea strategica, impattando a proprio modo nel meta attuale e futuro. C'è anche un altro fattore da tenere comunque in considerazione, in forte considerazione. Con l'avanzare dei set ci saranno sempre più possibilità di montare i cosiddetti mazzi anti-meta che daranno la possibilità a tutti coloro che vorranno andare contro il sistema di creare liste ideate e testate appositamente per abbattere costi e monopoli vari che vedranno i soliti leader comandare indiscussi i vari local o tornei di caratura maggiore. Perciò, diamo tempo al tempo, dato che il marchio in questione non ha ancora superato la sua fase di start-up fissata di solito sui cinque anni di attività e data la mole di prodotti pubblicati ancora da commercializzare, la rotta maggiore si popolerà sempre più di nuovi archetipi e leader pronti a darsi battaglia, dando, me lo auguro, a quanti più appassionati la possibilità di combattere per il titolo più ambito, quello di Re dei Pirati. E voi cosa ne pensate dell'attuale situazione che sta vivendo il TCG di One Piece? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.